Ciao amici bentornati su Cesco Channel, questa volta si continua ancora con l'Oriente Express numeri 37, 38 e 39. Sono davvero felice perché in questa diciamo triade cominciamo a vedere qualcosa di veramente concreto a livello di plastico. Come ben sapete in questi video io non farò il plastico però cercherò diciamo di darvi anche delle mie impressioni o comunque dei suggerimenti qualora posso a livello di quello che si vede all'interno dei fascicoli. Quindi diamo subito uno sguardo al fascicolo 37 dove si inizia a parlare ovviamente dell'invecchiamento dell'altro portale che avevamo già fatto diciamo il portale nei numeri precedenti. Ora facciamo l'invecchiamento del portale Nord. In buona sostanza ti spiegano tutte le tecniche per andare a pitturarlo nella maniera migliore e per poterlo diciamo per dargli anzi scusate per togliergli quell'effetto plasticone e dargli quell'effetto chiaramente di invecchiato con la patina con il nero con delle sfumature di bianco e soprattutto farlo diventare il più realistico possibile. La diciamo le fasi che vengono spiegati la spiegazione è veramente come dire buona secondo me anche a livello di neofita perché comunque ci si può cimentare senza pericolo di rovinare nulla. Per i più esperti possono spingersi diciamo oltre a quello che viene spiegato ma questa diciamo già questo invecchiamento qua è veramente fatto bene ed ha un ottimo un ottimo risultato. Guardate qui diciamo la parte finale come potrebbe risultare eccola qua è veramente spettacolare. Ti insegnano anche a chiudere i buchi in buona sostanza gli sfogatoi chiamateli come volete le finestre con del cartoncino nero e chiaramente per dare quell'effetto di vissuto al cento per cento. Infine ci saranno le fasi di montaggio dello chalet per tutti e tre i numeri. Andiamo al numero 38 nel numero 38 si comincia finalmente a vedere qualcosa di concreto la prima posa della sezione di tracciato quindi qui si parlerà praticamente di andare a posare i binari sul tavolato che probabilmente alcuni di voi avranno già fatto e andare diciamo a posare tutte quante le rotaie binari e adattarli a quello che è il circuito reale. Questo è praticamente lo schema di tutto quanto il nostro tracciato e ti spiegano anche come andare a sistemarlo sul tavolato e cominciano anche a parlare del discorso delle piattaforme di sughero cioè quando si fa una posa del binario questo lo dico per i neofiti quelli che invece sono già come dire sgamati nel mondo del modello ferroviario non hanno bisogno di queste di questi suggerimenti. In buona sostanza quando si posa il binario per fare la massicciata quindi mettere tutti quanti i sassetti servirà alzare leggermente il binario dal piano ok quindi dal dal tavolato ma non solo il sughero che metteremo sotto che andrà messo sotto il binario servirà anche per assorbire il rumore perché chiaramente il binario appoggiato direttamente sul piano sul tavolato che avete costruito diciamo farà molto rumore al passaggio del treno ok quindi il treno diciamo il rumore che sentirete che sentireste se non usate il sughero è molto amplificato soprattutto perché il tavolato fa la cassa e come la cassa acustica praticamente che con le vibrazioni renderà molto rumoroso il passaggio del treno con il sughero invece si attutisce di molto e soprattutto vi permette di creare appunto quello che vi dicevo lo strato con la massicciata e appunto apprezzarne anche il risultato finale perché esteticamente veramente bello però per prima fase sempre va praticamente fatto il tracciato di prova quindi qui ti insegnano a gestire tutte quelle che sono le le scarpettine che sono praticamente le giunzioni metalliche tra una rotaia e l'altra ti insegnano a posizionarle a posizionare i binari e posizionare le scarpette e soprattutto stringere un pelo le scarpette in modo che i binari siano ben saldi e non scappino diciamo a destra e a manca oppure si stacchino inoltre ti spiegano anche come fissarlo con qualche chiudino in modo da fare una prova definitiva perché usano i chiudini adesso ancora prima di tutto quanto perché comunque la prova deve essere fatta a binario fermo e in tensione per far circolare il treno e vedere dove ci sono i difetti quindi se il binario è troppo largo piuttosto che c'è troppo spazio tra un binario e l'altro piuttosto che magari aggiustarne come dire la direzione in sé per sé quindi qui spiegano veramente molto bene passo passo tutto quanto e anche come sostituire le scarpette quelle normali quelle di giunzione con quelle che ci hanno già fornito già saldate al diciamo ai fili positivo negativo quelli neri e rossi per capirci e infine ovviamente si parlerà un'altra volta di chalet un altro pezzo da diciamo aggiungere numero 39 scusate se mi dilungo un po ma questo è un argomento che io ci tengo molto perché comunque è la realizzazione del plastico ed è comunque una parte molto delicata per chi non ha mai fatto un plastico chiaramente è tutto nuovo e lo capisco qui diciamo prima nel numero precedente si parlava del ramo esterno ora si parla di quello interno e si andrà praticamente a posizionare non solo la parte del binario ma anche quello che è il portale nord quindi si dovrà verificare soprattutto la distanza che c'è tra un binario e l'altro ok perché è molto importante anche questo soprattutto nelle curve perché non si tocchino i convogli e soprattutto l'inclinazione del binario in modo da ottenere perfettamente l'ingresso delle due rotaie in modo corretto al portale ci fanno anche vedere come andare a bucare quindi come vedete c'è la punta del trapano che sta forando il portale in questo caso per andarlo appunto fissare nel suo posto corretto e farlo rimanere lì ok altra cosa c'è anche da vedere c'è una cosa interessante qui usano dei distanziatori all'interno delle gallerie non so se si vedono ok che servono appunto per far sì che il binario sia al centro esatto del foro della galleria ok questi distanziatori io ancora non li ho visti però probabilmente saranno come dire autocostruiti non so devo ancora leggere sono sincero un secondo solo che guardo assieme a voi no non c'è sì sì li chiama due pezzi di plastica recuperati praticamente sono due pezzi di plastica che loro hanno recuperato danno anche le misure in modo da poter come dire essere sicuri che il binario sia il centro esatto della galleria questo è un trucchetto che comunque va applicato diciamo io direi di applicarlo quasi in modo obbligatorio per essere sicuri di fare un lavoro fatto bene se siete ovviamente esperti questa cosa non vi serve inoltre ho visto che nella fase successiva nella fase 7 insegnano anche a misurare il binario e a tagliarlo a modo tagliano le traversine tagliano il binario perché perché probabilmente devono fare le giunzioni direttamente con gli scambi quindi nell'area scambi alcuni binari possono risultare troppo lunghi e quindi per adattarli vanno diciamo a tagliarli a misura comunque qui sono spiegate tutte quante le misurazioni che fanno e ti spiegano anche come andare a tagliare limare correggere il taglio che voi fate con un seghetto e soprattutto come andare a gestire anche le traversine quindi è veramente fatto fatto bene inoltre ti spiegano anche come andare a gestire la parte dell'alimentazione quindi non ancora spiegano come alimentare i binari attenzione ti spiegano come andare a gestire quello che è la la parte della presa di binario ok fanno due fori sul sul tavolato e in questi due fori sul tavolato che cosa faranno andranno diciamo a portare la corrente con due cavi direttamente alla presa di corrente di questo binario qui quei due cavi lì sicuramente finiranno sulla tavola dei comandi poco ma sicuro inoltre qui vedo anche la prova della 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 carrozza la ristorante in curva in modo che abbiamo diciamo la possibilità di andare a gestire tutte le cose in questo modo qua cioè capire se la nostra la nostra diciamo carrozza non non deraglia o comunque ha problemi in in curva o cose simili bene e infine chiaramente abbiamo anche la parte ultima del dello chalet adesso procediamo con quello che noi abbiamo cioè le parti dello chalet e andiamo a montarne a tra poco eccoci qua allora andiamo a prendere direttamente quello che è il nostro tetto dello chalet l'abbiamo recuperato dalla volta precedente e prendiamo il nuovo pezzo di tetto di tegole ok vi faccio sempre notare che qui sotto ci sono due perni che ci aiutano praticamente per avvitare le vitine ap di tipo ap che sono presenti all'interno della confezione giriamo il tetto e andiamo diciamo ad incastrare direttamente i due i due perni in questa maniera qui ora hanno un verso si ce l'hanno guardate il verso il senso delle tegole ok le tegole devono essere praticamente sempre spioventi quindi non potete come dire sbagliare sotto questo punto di vista andate a girare il tetto e prendiamo la prima vitina la puntiamo in uno dei due fori che sono presenti eccolo qua e andiamo con calma ad avvitare bene e facciamo il secondo ecco fatto bene eccolo qua abbiamo praticamente fissato i due punti quindi il nostro tetto è per ora completo quindi anche il numero 37 è completato vi faccio solamente notare una cosa nel numero 37 abbiamo ricevuto un altro pezzo del bagagliaio si tratta del tetto in grigio argento ok scuro molto molto bello con la tipica cupoletta diciamo della di controllo del personale di bordo e per ora lo conserviamo da una parte ci mancano ancora i carrelli che ci verranno dati nei prossimi numeri e quindi lo mettiamo da una parte continuiamo comunque il montaggio del nostro chalet a tra poco nel numero 38 ci sono questi due piccoli pezzettini quindi un pezzo dello chalet chiaramente con le doghe in legno ben come dire ben a vista e due perni che sicuramente serviranno per andare a fissare delle viti e qui c'è la finestra ok come al solito queste finestre qua hanno un verso quindi il verso è quello di mantenere la parte ruvida quella con come dire gli infissi che si sentono dalla parte esterna quindi come andare diciamo a gestire questa cosa giriamo questo pezzo vediamo che ci sono quattro piccoli perni bottoncini che ci permetteranno di andare a fissare questa finestra la parte quella rubida la teniamo verso l'esterno ok visto che l'ho girato quindi sarà verso il basso ci poniamo sopra e premiamo vanno ad incastro e quindi il gioco è fatto in modo molto molto semplice questo è il risultato e anche il diciamo numero 38 è completato passiamo subito al volo così al numero 39 quindi questi sono i pezzi del numero 39 ok sempre un pezzo della facciata dello chalet e un pezzo di finestra i vetri delle finestre diciamo così come andare a montare questo pezzo qua molto semplicemente andiamo a vedere come è disposto scusate un attimo che mi sposto un po di cose ecco fatto allora qui c'è la parte diciamo di facciata dello chalet metà mattoni metà doghe e abbiamo la possibilità di andare anche qui a vedere che sul retro ci sono tutti questi pernetti piccoli che ci serviranno appunto per fissare le finestre anche qui la parte delle finestre deve essere ruvida all'esterno ok quindi andiamo semplicemente ad ascoltare con le dita la parte più ruvida e comunque la forma ci aiuta a capire dove vanno posizionate girando chiaramente quindi ho fatto questa operazione girando chiaramente la facciata dello chalet vado ad adattare perfettamente la finestra e con l'incastro come sentite clic clac andrà direttamente fissata e questo sarà il nostro risultato finale molto molto carino ok quindi anche per oggi diciamo è concluso chiaramente in questi numeri abbiamo visto come si evolverà il plastico con la prova del primo binario dei primi giri di binari sulla sul tavolato per chi l'ha costruito e chiaramente nei prossimi numeri vedremo anche la costruzione finale diciamo di quello che è non solo quel tracciato lì e lo vedremo chiaramente sul sui fascicoli ma vedremo anche fisicamente la costruzione di quello che è il bagagliaio bene grazie di tutto e soprattutto mettete like continuate a seguirmi ciao da cisco